Noi dobbiamo ragionare sulla fidelizzazione del cliente, non della soddisfazione del cliente. Non mi interessa se qualcuno sia soddisfatto, mi interessa che sia fedele e fidelizzato. Voi avete tanti clienti, tantissimi clienti che vengono da voi e magari si lamentano di tutto, però poi ordinano ancora da voi. Vi chiamano e si lagnano di tutto e poi fanno un altro ordine. Questa è lealtà e fedeltà del cliente, questa è fidelizzazione. Vediamo un po' la differenza tra la soddisfazione e la fidelizzazione. I clienti soddisfatti vanno a fare acquisti ovunque, questo è il livello più basso. Se un cliente è soddisfatto, comprerà ovunque, da qualunque fornitore. Un millimetro al di sotto della soddisfazione, abbiamo l'insoddisfazione, anche la rabbia qualche volta. Il cliente fedele invece compreranno da voi per anni e non cambieranno se non con grande difficoltà e diranno ad altri di venire a comprare da voi. Lo spiego in un modo un po' diverso. Preferireste che il vostro partner fosse più soddisfatto o più fedele? Cosa chiedete al partner? Solo una domanda, innocente. La fedeltà è la misura per eccellenza del tuo successo e di quello dei clienti. Non è solo un processo, è davvero la misura dei risultati della propria azienda, guardando il grado di fedeltà e fidelizzazione. Nel resto del mondo si fa così. Abbiamo l'86,2% di clienti soddisfatti. Ma cosa significa questo? Vuol dire che c'è un 13,8% di clienti arrabbiati. Questo numero stranamente non lo fanno mai vedere. Abbiamo il 13,8% di persone che ci detestano. Non va bene questo. Qual è il brand che evoca più fedeltà in America? Lo sapete? I proprietari di questo brand sono disposti a far sì che i clienti facciano il tatuaggio di questo brand sul loro corpo. Ecco la realtà. La soddisfazione la imploriamo. La fedeltà invece va guadagnata. Quando acquisti un'automobile, il venditore dell'auto dirà Le manderanno una cartolina dallo stabilimento. Ci potrebbe dare un 5? Potrebbe rispondere con valutazione 5 a tutte le domande che le faranno. Perché? Ma perché me lo chiede? Perché non cerca di guadagnarselo quel 5? Perché me lo deve dire? Perché non dovrebbe essere la prassi questa? Ecco la mia definizione della fedeltà del cliente. Farai ancora affari con me? Mi consiglierai ad altri? Tutto qui, tutto il resto perde di significato. Farai ancora affari con me? Mi consiglierai a qualcun altro? Le tre parole appunto, le parole che aiutano a vincere, aiuta i clienti a vincere. Se vincono i tuoi clienti vinci tu. Se loro non vincono non vinci tu. E non è il prezzo, è il valore percepito che conta. E poi la grande domanda, una chiamata a freddo oppure preferisco un referral? Questa è una grande domanda. Quindi vi chiedo, voi cosa preferiste? Un referral oppure fate una chiamata a freddo? Cosa preferite dei due? 100 chiamate a freddo o un referral? Quindi vi sto suggerendo un segreto, conquistati il referral. Perché non chiedi il referral ma te li conquisti. Grazie a tutti.